Ancora una breve riflessione riguardo a questa visita che ho fatto pochi minuti fa al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e mi ha impressionato notare a un certo punto di fronte a una scultura l'indicazione dell'autore era scritto collaboratore di Andrea Pisano è impressionante pensare a quanti autori, a quanti artisti vi sono nella storia il cui nome non ci è stato tramandato noi conosciamo i nomi di numerosi maestri ma ve ne sono molti altri il cui nome non è rimasto nei secoli ma che hanno compiute opere di immenso valore